Siamo con l'Avvocato Pasquale Muccio, lo candidato al Consiglio regionale della Campania con la lista del Partito Socialista Italiano con Vincenzo De Luca, Presidente. Come mai la sua discesa in campo? Siamo scesi in campo perché era necessario farlo, perché dopo cinque anni di fallimento politico dell'Aggiunta Caldoro, tutte le migliori risorse in campo dovevano mettersi in gioco per cambiare verso a questa Regione. Il sottoscritto ha una lunga militanza politica, è iscritto al Partito Socialista dal 1997, ha avuto ruoli di vario genere nel Partito Socialista Italiano, attualmente Presidente Provinciale del Partito e Dirigente Nazionale. In passato ha avuto ruoli lì nella Federazione Giovanile Socialista ricoprendo financo la carica di Presidente regionale dei Giovani Socialisti. Quindi i socialisti sono scesi in campo perché sono convinti di poter dare in termini numerici di consenso e in termini programmatici quel giusto impulso per far vincere il centro-sinistra e per portare Vincenzo De Luca alla presidenza della Regione Campania. Quali sono gli obiettivi principali di questa campagna elettorale? Gli obiettivi sono tanti. Ovviamente noi incentreremo la nostra attenzione sulla sanità, sui trasporti, sui diritti civili, sull'ambiente, sull'agricoltura e sul turismo. Per quanto concerne la sanità i fondi sono pochi, la coperta è corta. Noi pensiamo ad una riprogrammazione dei servizi sanitari e dei servizi ospedalieri. Se dovessero essere necessari dei tagli, i tagli non devono essere lineari ma devono essere fatti dei tagli mirati. Pensiamo alla continuità assistenziale, pensiamo a dare a tutti i cittadini una sanità corretta, puntuale. Non è possibile che ci siano dei cittadini delle aree interne che sono penalizzati, ci siano dei cittadini di serie B. Per quanto concerne poi la questione dei trasporti per esempio, va riprogrammato il piano dei servizi tenendo conto delle differenze territoriali tra le aree conurbate e quelle meno conurbate. È necessario fidelizzare l'utenza, è necessario lottare contro l'evasione e l'illusione tariffare. Poi, cosa gravissima in Regione Campania, la Regione Campania è ancora l'unica regione che non ha un piano di sicurezza stradale. Ci sono circa 300 morti l'anno sulle strade della Regione Campania e non c'è un piano di sicurezza. Poi, che dire dell'agricoltura? Come si può fare l'agricoltura se non si favorisce la cooperazione delle aziende, se non si fa un piano ecoambientale, se non si fa la tutela delle acque, se non si procede praticamente alla tutela dell'ambiente. Noi su questo punteremo fortemente. Per quanto riguarda invece il turismo, la prima cosa che faranno i socialisti sarà quella di porre mano alla legge sul turismo, perché la governance del turismo è vergognosa. C'è stato anche in questo campo un forte napolicentrismo. Noi siamo per un coordinamento regionale, però siamo contro la mortificazione dei territori per quanto riguarda la pianificazione delle politiche turistiche. E poi sulle politiche sociali. I socialisti sono da sempre vicino al mondo radicale. Quindi noi faremo delle battaglie, tanto per quanto concerne la tutela dei diritti dei soggetti privati della libertà personale, che se giustamente sono stati privati della libertà personale, parlo dei detenuti, devono essere trattati umanamente. E poi ci impegniamo e ci impegneremo per l'approvazione di una legge sull'uso farmacologico della cannabis, perché ci sono tante persone che soffrono per le quali non hanno più effetti, non fanno più effetto le medicine tradizionali e danno diritto a non soffrire. E che dire ancora delle politiche sociali. Sempre di più i nostri anziani sono abbandonati, i comuni non hanno le risorse giuste per poter apprestare la giusta assistenza agli anziani, ai disabili. Noi su questo ci impegneremo, ci impegneremo fortemente. Pasquale Mucciolo, un messaggio agli elettori. Io sono convinto che gli elettori campani oramai sono maturi. Sono stati vaccinati da questi cinque anni di cattivo governo. Il 31 maggio cambieranno verso questa regione. Voteranno Vincenzo De Luca. E nell'ambito di questo voto e di questa scelta io chiedo un voto per il Partito Socialista Italiano e per il sottoscritto. Votate Partito Socialista Italiano e scrivete Pasquale Mucciolo.